E' anche oggi andata. Ciao, io sono Biagio e questa è la mia officina. Officina Aurora, gommisti da tre generazioni. Eccoli lì, nonno Michele e papà Giulio. Tutto quello che so sui pneumatici l'ho imparato da loro. Beh, quasi tutto, perché c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare, no? Nuove tecnologie, nuovi strumenti, nuove attrezzature. Per questo ho scelto Goodyear. Per me e per i miei clienti. Garanzia di qualità, sicurezza, prestazioni. Grazie a Goodyear posso contare sulla gamma più completa di pneumatici quattro stagioni. E su una vasta scelta di pneumatici montati in primo equipaggiamento dalle migliori case auto. Tutto a condizioni commerciali dedicate. Con un partner così tutto diventa più semplice. Persino per uno come me, che di computer non ci capiva niente. Adesso risponde ai miei clienti anche su Facebook. Visto? Troppo forte. Anche perché grazie ai corsi di formazione che Goodyear offre ai suoi rivenditori posso restare aggiornato sulle più importanti innovazioni del settore. A volte per fare la differenza basta solo fare una scelta. Io ho scelto. Goodyear.